Un monumento funerario permetterà di ricordare all'interno del cimitero Angeli di Caltanissetta Aldo Pinelli, il filantropo originario del capoluogo nisseno dove è nato nel 1930, ha lasciato un segno nella storia delle donazioni del sangue in Sicilia e non solo. Un grande impegno il suo nel mondo del volontariato e dell'associazionismo, legato appunto al tema delle donazioni. Il suo lavoro è stato riconosciuto anche a Palermo, città in cui ha vissuto e dove è stato celebrato con una via all'intitolata, un ritratto nella biblioteca comunale e anche con un busto nel giardino inglese Parco Piersanti-Mattarella. Anche la città di Caltanissetta in passato aveva dedicato a Pinelli una via e adesso si rende nuovamente omaggio alla sua figura con un cippo, la Porta del Paradiso. Con la collaborazione di tanti uomini di buona volontà perché da soli non si fa nulla. La soprintendenza ha dato questo spazio meraviglioso, il comune di Caltanissetta ha sponsorizzato, ha dato il patrocinio per questo evento. Viene inaugurata questa nuova sepoltura, quindi ritorna nella sua città, fra la sua gente, però in una collocazione differente che il comune di Caltanissetta ha deciso. È un atto di giustizia, è anche la fine di un processo che è iniziato vent'anni fa e che ha portato lui ad essere onorato sia nella sua città adottiva Palermo, sia nella sua città natale Caltanissetta. Nella chiesa Santa Maria degli Angeli si è svolta infatti la cerimonia commemorativa tra foto e filmati, musica con il soprano Valentina Di Franco e il pianista Gabriele Palumbo e biodanza con l'insegnante Anna Maria Scano. Oggi è stata ripercorsa un po' la sua vita, la sua vita diciamo da filantropo, però anche qualche immagine del passato, insomma della sua famiglia di origine perché siamo nella sua città d'origine e quindi era giusto dare delle immagini anche di tanti tanti anni fa quando lui era piccolo, era giusto mostrarle a Caltanissetta. Il figlio di Aldo Pinelli ha voluto ricordare il padre in un momento veramente emozionante perché Aldo Pinelli è stato un filantropo, cioè nel senso che ha dedicato tutta la sua vita agli altri, si è donato per gli altri e quindi è veramente un onore per Caltanissetta riaccogliere Aldo Pinelli.